Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi ovviamente parliamo del nuovo Crisis Dungeon in difficoltà very hard ovvero la Pina Cost. Ovviamente aggiunto con il nuovo capitolo e con il ranking dungeon che ho già trattato praticamente nei video di ieri. Se non li avete visti ovviamente ve li metterò come al solito collegati, linkati a questo video. Oggi invece parliamo di questo dungeon un dungeon che comunque è molto affine con il ranking dungeon che stiamo vivendo adesso quindi prevalenza fuoco, ovviamente vantaggio strategico con elemento fuoco quindi se avete un team con cui riuscite a giostrarvi il ranking dungeon potete tranquillamente utilizzarlo qua. L'unica differenza che ovviamente bisogna modificare a differenza del ranking dungeon è che richiede i sigilli X quindi i sigilli con per l'appunto il simbolo X qui bisognerà utilizzare praticamente il simbolo cerchio infatti come potete vedere tutti i nostri avversari hanno il sigillo richiesto circolare e non a X perché qui comunque appare X ma se siete abbastanza forti non riuscite cioè praticamente non avrete bisogno praticamente di breccarlo lo potete shottare prima però come potete notare abbiamo tutti quanti i nostri avversari deboli al fuoco e allo stesso tempo tutti che richiedono sigillo circolare io l'ho affrontata in blind praticamente questa sfida infatti sapendo che appunto il boss che è il Gallon Baloir possiede praticamente debolezza fuoco e sigillo circolare praticamente sono andato con lo stesso team che ho utilizzato per il ranking dungeon anche perché se notate nelle informazioni iniziali del dungeon potrete notare come la potenza del fuoco è aumentata di base già del 20% quindi capite benissimo che qui il fuoco è il vero protagonista di questo ranking dungeon fondamentalmente team che ho utilizzato come vi ho detto prima è praticamente lo stesso team oddio si è bloccato ok lo stesso team che ho praticamente utilizzato con il ranking dungeon l'unica cosa che ovviamente vi ricordo a differenza mia che non ho fatto questi cambiamenti è stato per l'appunto le ruin che ho utilizzato tutte con sigillo X mentre invece la cosa che dovrete fare che dovrete ricordarvi è utilizzare le ruin col sigillo circolare quindi non c'è molto da dire Sephiroth che comunque sia mi fa DPS debuffer anche se in realtà diciamo che il suo attacco ghiaccio qui non l'ho sfruttato praticamente mai quindi vi consiglierei se ce l'avete Sephiroth buildato con il fuoco quindi con l'arma che emette debolezza fisica e imperi il fuoco e il vestito se lo avete pullato sempre in rifacimento alla build fuoco è molto più consigliato e comunque sia vi permetterà di cavarvela alla stragrande io invece in questo caso ho optato per una build totalmente ghiaccio con ovviamente attacco magico sempre ghiaccio sfruttato così e così però meglio ovviamente il setup fuoco se lo avete Eris come detto sempre curatrice debuffer anche lei riduzione difesa fisica e magica con la sanambrella cura con la firetail e poi ho lasciato praticamente le materie in questo caso fire breach e thunder breach per aiutarmi praticamente nel ranking dungeon però qui ovviamente fire breach è comunque molto molto buona perché ovviamente io qui non sto utilizzando Sephiroth come support o comunque come appunto secondo DPS fuoco statistiche ovviamente molti HP molto attacco magico e una discreta cura cloud invece ovviamente DPS fuoco totalmente concentrato sul danno fuoco arma secondaria ovviamente murasame tuono perché vi ricordo che questo è il mio stesso team del ranking dungeon quindi non ho avuto sbattimento di cambiarlo ho detto vediamo se funziona buttiamoci con questo team e comunque funziona però voi ovviamente vedendo questo video potrete prendere i giusti accorgimenti e quindi cavarvela ancora meglio rispetto a come me la sono cavata io fortunatamente questi dungeon non richiedono punteggi altissimi quindi potete comunque utilizzare qualche oggetto se ne avete bisogno soprattutto se siete veloci nella sconfitta dei boss iniziali che comunque sono più deboli rispetto a quelli finali quindi avrete modo comunque di compensare bene o male il vostro punteggio sub weapon vi faccio vedere ovviamente le sub weapon in questo caso ho comunque tutte sub weapon che praticamente mi danno HP potenza fuoco attacco magico fisico potenza fuoco e poi attacco fisico tuono perché vi ricordo che questa è la mia build per il ranking dungeon sefirot invece attacco magico ghiaccio attacco magico fisico ghiaccio e poi HP difesa fisica mentre invece eris ovviamente healing difesa magica HP difesa fisica HP difesa magica per avere diciamo la possibilità di essere il più equilibrata possibile detto questo non c'è nient'altro da dire il team lo conoscete ve l'ho già presentato quindi non mi sono diluncato più di tanto ma fondamentalmente funziona così l'unico accorgimento vi ricordo le ruin col simbolo circolare e sefirot se lo avete sfruttatelo con il con il sub dps di tipo fuoco detto questo vi lascio alla run non c'è altro da dire spero che il video possa esservi utile e ci becchiamo alla prossima l'unico Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.